Tocchiamo la profilia. Io pensavo di sì per i motivi che ho detto prima. Guardate, non è indifferente il fatto dell'esperienza recente di ESPO. Oggi fare un grande evento vuol dire occuparsi degli aspetti organizzativi, ma pensate ai temi della sicurezza. Aver capito come anche il percorso per arrivarci va gestito. Io non mi candido a fare niente perché evidentemente mi ho già fatto uno però è chiaro che probabilmente nessuno con me sa in Italia cosa vuol dire l'organizzazione dell'Italia. Quindi questo è un contributo non tanto relativamente a me, ma a me quanto a Milonesi, quindi mi danno alle cartelle. Avete incontrato la delegazione di Torino che è appena salita? No, ce l'hanno nascosti.